Novafietta è bello e convincente, colonnella troppo nervoso per essere vero. Gli ospiti rimarranno addirittura in otto uomini. La squadra di guerra gioca una delle migliori partite stagione, legittimando vittoria e risultato, e domenica è attesa la prova del 9 con una diretta rivale per la salvezza, chiamata Miramare. Pronti e via, i cupi sulla destra provano in pensiero la retroguardia ospite. Stessa cosa dall'altra parte, tenta di fare i difensori Raffelli. Il colonnella, più o meno a fondo, rischia la beffa. Falli inventa, ronci e sce valanga sull'avversario, non trovando né pallone né uomo. Con la difesa di casa, che è lontano in pericolo. La serata del portiere continua quando, da un inocchio tiro dalla distanza, si complica la vita da solo, rimediando all'errore in due tempi. Gori prova allora a dare la scossa ai suoi dalla distanza, senza però incidere. Prima della mezz'ora, il colonnella passa. Solita leggerezza difensiva del nuovo affete, a pace e ringrazia, e il contropiede, come all'andata, Buche gialloblu, infilando ronci, che anziché uscire esita un po' troppo, rimanendo colpito anche lui dall'attaccante, che ha a modo di festeggiare con i compagni la rete realizzata. Il nuovo affete non ci sta, e con una prova da grande squadra, trova il pari in chiusura di tempo, con la new entry di questo giro di ritorno, chiamata Federico Baldinini, che in area avversaria, dopo un batte e ribatti, riesce a girarsi, trovando il pertugio giusto, che batte l'estremo ospite. Nella ripresa il colonnella si rende pericoloso con questo traversore, su quale paci manca l'appuntamento con i gol. Dall'altra parte, il nuovo affete colpisce. Il neonato piloto, oltre ad aumentare il potenziale offensivo del nuovo affetria, reca a sostanza, tramutando i gol, l'assist del compagno, liberando la propria gioia con compagni e tifosi. Per piloto, secondo gol in stagione dopo quello decisivo con i Villa Alta. Fraboni, da punizione non contento, prova a colpire anche lui, ma nulla di fatto. La partita diventa masca, il capitano Vitali viene ammonito per una dura entrata su Amantini, mentre Fraboni e Stefanelli, con due azioni fotocopia, provano a colpire. Fraboni in venta, Stefanelli colpisce, ma ancora non nulla di fatto. Proprio su quest'ultima azione, gli animi si accendono, e Fal si fa espellere, rimediando la seconda munizione. Il centrocampista va via, ma non senza sbattere la porta, pardon, il cancello di ingresso. Il nuovo affetria continua a giocare sul velluto, Stefanelli riceve da Cupi, appoggia per Fraboni, che spara addosso a Piccone. Dalla punizione battuta in giramento dal neo entrato, Amati, scaraventata addosso al piloto, Stefanelli si trasforma nuovamente in incredibile Hulk, recupera il pallone, muscoli e potenza fisica devastante, prima dell'abbattimento, chiamato Guidi, dentro l'area di rigore. Doppia munizione ed espulsione per il centrale difensivo. A fargli compagnia sotto la doccia, si reca anche Fabri, allontanato per proteste. Dagli 11 metri, Stefanelli sbaglia però il secondo penalti di stagione. Il nazionale samarinese prova a farsi perdonare con il solito assist di Fraboni, ma la solita inzuccata finisse fuori di un nulla. Prima però che inizi lo spettacolo finale, infatti si accendono i fuochi d'artificio e Scupidu, come viene battezzato dagli amici, sulla fassa mette il dis, attraversore dall'altra parte per Sebastiani, che è in corsa, sigla il trisse, prima di essere abbracciato da tifosi e compagni. A fargli compagnia, seguirà nuovamente il piloto, che da due passi raccoglie una respinta della retroguardia ospite, che proietta il pallone sul piede per il definitivo 4-1 proprio dell'attaccante gialloblu. Terzo centro di stagione per lui e via al Nova Park. Divertimento allo stato puro. Ora pagare il biglietto si può.